La Costituzione serve a difendere i diritti dei cittadini rispetto a chi ha il potere. Voi quando pensate a una Costituzione dovete immaginare di avere al governo la persona che più odiate, il vostro peggior incubo al governo, dovete immaginarlo, può essere uno qualunque, per qualcuno è Salvini, per qualcuno è Renzi, per qualcuno è Berlusconi, per qualcuno è Grillo, per qualcuno è Trump, per qualcuno è Putin, non importa, voi immaginate di avere al governo il vostro peggior incubo, magari il vostro capo ufficio, immaginate quale Costituzione vorreste a difendere i vostri diritti? Ecco perché io dico no.